Alla zuppa di porro oggi è un po' tardi ma d'altronde c'è il fuso orario, quindi insomma per me è prestissimo, anche se per voi ormai i giornali sono cosa acquisita, quindi oggi i giornali li faremo in maniera un po' diversa rispetto al solito, più commentata, diciamo così. Allora, il tema fondamentale è che ci siamo accorti che quello che sta succedendo nel PD è una sorta, come dice Laura Cesadetti oggi sul giornale, di Casa Vianello, cioè è incredibile se uno non ci credesse che siamo in Italia e che siamo nel PD di come uno si voglia far male da solo. Allora, cosa succede? Che Pisapia doveva essere il salvatore della sinistra, poi dopo si abbraccia con Laboschi e Travaglio e alcuni vicini alla sinistra, diciamo antirenziana, non glielo perdonano. Poi Lerner fa la seguente battuta, quando D'Alema dice a Pisapia tu sei il leader, noi ci tocchiamo le palle, perché secondo Lerner evidentemente D'Alema porta sfortuna, come se D'Alema facesse una battuta, non so, su... lasciamo perdere, ognuno si fa le battute che vuole, però vi rendete conto il livello a cui siamo, quindi D'Alema si offende con Lerner che è il portavoce di Pisapia e non si fanno le riunioni quando c'è Lerner, almeno così secondo di retroscena e dall'altra parte invece Pisapia si offende perché lo criticano eccessivamente per il suo abbraccio con Laboschi, c'è una cosa che è allucinante e poi Travaglio fa il fondo ancora oggi dicendo che il problema non è l'abbraccio con Laboschi ma è il fatto che Laboschi sia inabbracciabile, è una cosa incredibile per chi ha fatto il padre popolare Etruria e Financo, giuro Financo, la truffa sui voucher dopo 3 milioni di italiani che hanno dato il referendum, cioè anche quella è colpa della Laboschi, adesso figuratevi voi se a me mi diverte di difendere Renzi e Laboschi, ma che adesso sia diventata una specie di Belzebù Laboschi e che Pisapia non può... avete capito, questo è il partito che dovrebbe governare con un governo fatto tra MDP e gli altri, se non riesce neanche a governare i suoi mori e i suoi abbracci, pensate un po' voi come possa governare noi. Cosa succede? L'altra grande notizia di giornata dove un'altra volta il PD non è diviso di più riguarda la questione dei vitalizi, ieri hanno votato il voto della pregiudiziale di costituzionalità, oggi probabilmente lo voteranno, il vero tema è che il PD e il Movimento 5 Stelle rischiano di stare insieme, tra l'altro il PD più rinanziano di tutti perché la legge sui vitalizi è fatta da Richetti e su questo vi vorrei fare riflettere un secondo su che cosa è questa legge sui vitalizi. Allora intanto è stata cambiata la legge sui vitalizi, anche i parlamentari prendono le pensioni come noi comuni cittadini, anzi meglio di noi comuni cittadini perché possono andare in pensione prima con un privilegio nell'età e rispetto a quello che svolgono, rispetto a noi tutti i cittadini perché lo possono dare a 60 anni e noi arriveremo in pensione a 65, 70 la mia generazione. Ma questo è un dettaglio, un dettaglio importante perché è di nota sempre il fatto che loro si trattino meglio della nostra generazione, ma il punto fondamentale è che questa legge fatta da Richetti vale anche per la bellezza di 2.400 pensionati che sono pensionati precedentemente al 2012 quando fu fatta dal centro-destra quella di riforma delle pensioni, il che vuol dire che per i parlamentari non valgono i cosiddetti diritti acquisiti. Vedete, la cosa a me, io sono abbastanza contento, ma è perché con questa maniera potremmo togliere i diritti acquisiti ai benefici pensionati, i diritti acquisiti a coloro che hanno rubato la pensione, veramente rubata perché non hanno portato, non hanno versato minimamente i contributi rispetto a pensioni stellari che hanno. Allora io mi chiedo, attenzione però, perché se i parlamentari votano contro i diritti acquisiti di loro stessi, cosa succederà quando si voterà per la rottura? Voi che siete tutti contenti che state là, tutti da applaudire, ognuno ha una pensione in famiglia, non io, ma io sono l'unico che non c'è, nessun pensionato in famiglia, nessuno di noi gode di una pensione, ma cosa diranno tutti quanti gli altri italiani quando i loro diritti acquisiti verranno toccati? E se si toccano per i parlamentari, perché non si devono toccare per loro? Perché i parlamentari sono brutti e cattivi? Può essere, ma sono 2400 persone, milioni di persone rischiano i diritti acquisiti e vado avanti, vado avanti, che è il secondo retropensiero che molti oggi sui giornali fanno emergere. Se loro fanno una riforma delle pensioni per quanto riguarda i parlamentari precedente al 2012, che vale per, ripeto, 2000 persone, quindi stiamo parlando di bazzecole rispetto agli sprechi che noi ogni giorno facciamo. Vi chiedo, cosa facciamo se la Corte Costituzionale interverrà come sicuramente interverrà e dovesse bocciare questa parte della manovra? Avremmo fatto la bella figura che il PD e il Movimento 5 Stelle hanno fatto la grande battaglia contro i vitalizi di De Mita, mettete tutti quelli che a voi non vi piacciono, non so, Forlano, non lo so, tutti quelli che non vi piacciono a voi e poi dopo ovviamente la Corte Costituzionale la boccerà e quindi chi s'è visto, s'è visto. Insomma, grande demagogia intorno a questa battaglia e il PD si spacca come cita oggi Repubblica, perché anche su questo il PD dice che non possiamo andare appresso ai populismi del Movimento 5 Stelle. Altre due cose invece che mi sembrano molto meno populiste e molto più interessanti sono quelle del messaggero. A Roma, nelle aziende municipalizzate, ci sono il 12,4% di persone assenti ogni giorno, 12,4%, altro che i 2.400 parlamentari che gotano il vitalizio, sono 3.000 persone che non fanno nulla ogni giorno perché hanno la 104, perché si sentono male e non stiamo parlando di ferie e malattie vere, stiamo parlando di roba così fuffosa. Vi faccio un esempio, all'Atac che funziona di merda, ci sono 1.400 persone ogni giorno che non lavorano per un motivo vario, non ferie, non malattie vere. Ci sono a Lama i rifiuti 1.100 persone che non lavorano ogni giorno, ma vi sembra normale? Si può continuare a pensare che due problemi come i trasporti e i rifiuti abbiano persone a Roma che ogni giorno dicono non lavoro, non ci sono, non che hanno un secondo lavoro, non che lo fanno male, non si presentano al lavoro e ancora continuiamo a parlare dei vitalizi. Io andrei lì e direi ragazzi perché non lavorate? Che è successo? Quali sono le regole per cui 1.400 persone possono lavorare su 11.000 dipendenti? Altra cosa straordinaria, la leggo oggi sulla verità, la fa un bellissimo pezzo Aldo Forbice, che dovrebbe essere il vecchio grande conduttore di zapping e Aldo Forbice racconta il garante per l'infanzia, una delle cose più inutili del mondo, perché lì ci sono i codici magistrati, potremmo avere tante altre cose, ma c'è il garante per l'infanzia. Bene, il garante per l'infanzia, io non ho nessuna di queste velletà tagliatrici e populiste, però mi deve spiegare qualcuno come è possibile che guadagni 433.000 euro all'anno, poco o tanto che siano, non mi interessa, ma non mi avete spiegato che il massimo che potete prendere come ritribuzione un dipendente pubblico e questo garante per l'infanzia è un dipendente pubblico, perché è un magistrato e facesse magistrato invece il garante per l'infanzia non farebbe un danno a nessuno, visto i processi, quanto hanno bisogno di personale. Questo signore, perché questa signora, perché guadagna 433.000? Cioè va benissimo che le guadagni, ma come facciamo allora non far guadagnare 433.000 a un dirigente della RAI? Fazio li guadagna, dirigente della RAI no. Come facciamo a non guadagnare al magistrato o al superpolizio? No, tutti i 244.000, ma il garante per l'infanzia è garante anche del suo stipendio. 433.000, il che non è, vi ripeto, non sono contro il suo stipendio, sono contro le follie di avere un garante per l'infanzia, non so che cosa serva, vengono pagati questi due milioni costa all'anno solo per pagare gli stipendi dei 10 funzionari che sono là, aboliamo questo garante dell'infanzia che non serve assolutamente a nulla, ci sono i codici che ci possono difendere, i magistrati che invece di fare i garanti potrebbero stare nei loro tribunali a fare i garanti della giustizia per tutti. Andiamo avanti di Pisapia, vi ho parlato, adesso un capitolo per forza bisogna farlo su Macron. Allora io voglio sapere dove sono finiti tutti quegli italiani, a parte Giuliano Ferrara e il foglio che è rimasto diciamo macronista dal inizio alla fine, ma che avevano dicevano e che Macron era il futuro, vi dico soltanto due cose che ci sono oggi sui giornali su Macron, una tirata fuori in maniera egregia dal Corriere della Sera con Dario Di Vico che la mette con grandissima vedenza e la seconda su tutti gli altri giornali, mentre noi stiamo qua a cincischiare e a cercare di portarci a casa e diventare una piattaforma dell'immigrazione irregolare d'Europa dove si fermano, una specie di Guantanamo dell'immigrazione europea perché oltre all'Italia non vanno, ma in Italia arrivano grazie alle navi di Frontex che non sono solo italiane, Macron vicino all'Eliseo, vicino fuori Parigi, in un castello fuori Parigi in un dependente del Ministero degli Esteri, si porta a casa i due contendenti della guerra libica, il generale che controlla oggi Tobruk e il primo ministro senza nessuna personalità che controlla Tripoli e Piazza D'Ollà dalle Nazioni Unite. Bene, i due li mette insieme e Macron dice cessate il fuoco e arriverete a fare le elezioni in primavera, sostanzialmente legittimando anche il generale che non è stato legittimato da nessuno che controlla Tobruk ma che è stato legittimato dal suo popolo e che gode di un esercito forte, mentre per quanto riguarda il Presidente, il Premier non aveva bisogno di legittimazione perché è stato piazzato lì dall'ONU ma aveva bisogno di credibilità e la sua stretta di mano con il generale gli era data. Insomma, Macron ha fatto un'operazione di politica estera come spesso fanno i francesi fottendosene di tutti gli altri, fottendosene dell'Italia che ci aveva lavorato, anzi ci ha pure preso per il culo perché ci ha ringraziato e ringrazio anche per l'attività che ha svolto l'Italia e Libia, cioè ci ha preso per i fondelli, noi mesi di diplomazia, ma fidate ad Alfano, potete immaginare voi dove andiamo. Beh, comunque sia, Macron fa lui l'accordo ovviamente perché cosa? Per l'unica cosa che conta in Libia e cioè le stazioni del petrolio del futuro, mentre noi ci becchiamo soltanto la monnezza, cioè la capacità che ha la Libia di fermare o non fermare l'immigrazione e i clandestini attraverso i trafficanti di uomini, questa monnezza di trafficanti di uomini che continuano imperturbati a lavorare là. E la seconda cosa di Macron, straordinaria, è che lui e il suo ministro dell'economia hanno detto che l'Italia non può comprare i cantieri navali San Nazare se non attraverso una partecipazione paritetica, cioè i cantieri che erano prima proprietà di una società sudcoreana al 75%, l'Italia compra la quota della società sudcoreana che aveva il 75% di questi cantieri francesi, perché questa società sudcoreana era fallita, l'Italia subentra alla società sudcoreana il nostro mito Macron, l'uomo dell'Europa, della libertà, dei commerci, l'uomo che altro che Trump, poi è il primo a riceverlo Trump, ma altro che Trump perché lui sì che vuole la libertà dei commerci, quando l'Italia si compra una società che è non più francese, ma di proprietà sudcoreana, ma con sede a Parigi, con sede in Francia, bene, dice no italiani, voi dovete scendere al 50% perché non è accettabile la vostra presenza, ma come? Eravate sudcoreani e vi andava bene, poi arrivano gli italiani e non va più bene? No, sapete che cosa è cambiato? È cambiato che al posto di Hollande, che all'inizio piaceva a tutti e poi odiato da tutti, è arrivato Macron e ci sta facendo un mazzo così, con la grandeur, con la sua signora, con quest'aria sarkosiana, come hanno sempre i buonaparte francesi, che piacciono tanto ai nostri italiani da salotto. Ultima cosa riguarda il giudice Salvini, a Milano decide la seguente cosa, che non possono essere condannati gli immigrati che fanno furti se non sono reperibili, il che vuol dire che il 15% dei processi nei confronti di furti, rapine, stupri che avviene a Milano sarebbe irrealizzabile perché è vero che questi immigrati eleggono domicilio presso l'avvocato d'ufficio, come avviene sempre, ma dice il giudice Salvini che questo non vuol dire che siano effettivamente reperibili e quindi in questa maniera basta rendersi irreperibili per non essere processati e quindi prescritti. Vi rendete conto cosa vuol dire questo nell'amministrazione della giustizia italiana nel futuro? È una cosa pazzesca, soltanto Repubblica oggi ne dà conto, ma io penso che questa decisione del giudice Salvini nel silenzio più totale sia una di quelle decisioni che faranno veramente discutere. Non arrabbiare Salvini, quello della Lega, ma far discutere perché anche gli stessi giudici non sono tutti dell'avviso che si possa evitare di condannare una persona soltanto attraverso la sua irreperabilità perché sennò questo sarebbe un po' troppo semplice. Va bene, vi saluto Francesca e New York, come avete visto sono qui e per questo vi dico che c'è un po' di orario diverso rispetto a quello vostro italiano e spero di riuscire a continuare nel prossimo giorno a fare la zuppa di porro e vi do un abbraccio, ciao!